buonasera ecco siamo qua stasera per presentare il l'ultimo romanzo di io preferisco il più recente il più recente il più recente il recentissimo il più recente romanzo di maurizio di giovanni sorelle come voi sapete maurizio di giovanni ha vari filoni di scrittura con personaggi completamente diversi questo appartiene all'ambito dei servizi segreti con protagonisti femminili soprattutto Sara e questa donna anche abbastanza tormentata che ha un'amica che si chiama Teresa e il titolo allude proprio a questo rapporto particolare che c'è tra le tue donne Teresa e Sara una bionda e una bruna entrambi che fanno parte dei servizi segreti entra molto diverse tra di loro ma legati da legate da un rapporto profondissimo di amicizia e tante altre cose che potete anche scoprire leggendo il libro quando si parla di un libro poliziesco o di un libro di spy story perché qua siamo nell'ambito dei servizi segreti è meglio non rivelare tanto perché se no si rovina il gusto della lettura ma si può dire perché questo succede all'inizio proprio all'inizio delle prime pagine una delle due donne Teresa viene sequestrata è in pericolo di vita Sara l'amica sa che ha il tempo contato per salvarla e fa di tutto per salvarla e sa che per poterla salvare si deve appigliare ad alcune cose che come tutti gli agenti segreti si parla in gergo delle spie delle assicurazioni cioè che si tengono da parte qualche cosa che può davvero garantirgli la salvezza nei momenti di estremo pericolo il romanzo è questa corsa contro il tempo per salvare questa amica che coinvolge altri personaggi e coinvolge poi anche il passato delle due donne un passato funestato anche da lutti o comunque da storie di lavoro da avventure eccetera ripeto non si può rivelare troppo perché davvero se no si guasta il gusto della lettura Maurizio De Giovanni tu appunto sei come scrittore ti muovi su vari filoni e ogni filone è veramente molto diverso dagli altri Pizzofalcone Ricciardi Sara per l'appunto settembre mina settembre che il penultimo forse l'ultimo penultimo penultimo il più il più recente il primo recente il recente prossimo eccetera eccetera appunto personaggi molto diversi che si muovono ecco quando tu ti poni di fronte a queste storie così diverse hai come dire un mood particolare cioè come fai a switchare a passare dall'una all'altra storia con questa grande facilità ma innanzitutto buonasera a tutti grazie di essere di essere venuti quando sono arrivato c'erano lampi e tuoni non so come sia la situazione adesso quindi grazie di aver affrontato anche le intemperie per essere qui allora le serie ogni scrittore vorrebbe avere una serie perché una serie ti consente di fare visita ai personaggi con continuità ti consente di approfondire le conoscenze dei personaggi ti consente di vedere di più di quello che normalmente il respiro di un singolo romanzo ti consente un singolo romanzo è una vicenda quindi tu sei legato a una trama ci sono i personaggi e c'è l'ambientazione quindi tra questi tre elementi costitutivi tu ti devi muovere quando hai l'opportunità di scrivere un ulteriore romanzo e poi ancora un altro perché i lettori decidono che vogliono saperne ancora di questi personaggi non è così banale tutti scriviamo un romanzo e poi dobbiamo avere la fortuna di avere nei lettori il gradimento che porta l'editore a farti scrivere ancora su questi personaggi quindi la serie è un po' un punto d'arrivo per uno scrittore e che significa innanzitutto banalmente che il tuo personaggio o i tuoi personaggi o quel mondo che stai raccontando ha avuto successo poi ti consente di approfondire ti consente di conoscere meglio i personaggi è come un vicino di casa dovete pensare cioè un vicino di casa tu lo incontri se vivi un giorno o un mese in quella casa hai un'opportunità di incontrarlo, due e magari ti è istitivamente antipatico o istitivamente simpatico ma non puoi approfondire la conoscenza quando invece vai a vivere vicino a uno e ci vivi per più tempo in più soluzioni scopri cose di questa persona che non conoscevi e così succede con i personaggi seriali chiaramente come funziona? funziona al contrario dei processi industriali, io dico cioè quando tu scopri qualcosa il sapone di Marsiglia e il sapone di Marsiglia è successo cominci a fare l'ammorbidente al sapone di Marsiglia poi fai il detersivo per i piatti al sapone di Marsiglia poi fai i fazzoletti imbevuti al sapone di Marsiglia e continui a battere su questo nella scrittura funziona al contrario cioè quando tu hai scritto una cosa e questa cosa piace dovrai scrivere in un'altra perché altrimenti continui a scrivere quella e basta con Ricciardi io avrei potuto diciamo limitarmi a questo ma la voglia di esplorare per esempio il mondo contemporaneo mi ha portato a scrivere Bastardi di Pizzo Falcone poi la voglia di utilizzare un po' il tono di commedia mi ha portato a scrivere Mila Settembre e Sara è il mio total black diciamo è il mio modo di mettere le mani all'interno dei segreti che questo paese ha perché moltissime cose sono dei puntini numerati e la voglia di tirare le linee che uniscono i puntini numerati e vedere quello che ne viene fuori è forte con Sara io faccio semplicemente questo mi limito a guardare la realtà attorno a me e a tirare delle somme perché se poi pur volendo non volendo essere complottisti vogliamo immaginare che movimenti di miliardi di euro vengano lasciati al caso e che si immagini che un assessore di un qualsiasi comune o un vigile urbano che ferma un autotreno e decide di spezionarlo o un posto di blocco della guardia di finanza possa essere il granello di sabbia che blocca un ingranaggio di queste dimensioni secondo me crediamo anche a Cappuccetto Rosso e al lupo cattivo e quindi alzare il tombino e guardare realisticamente quello che c'è sotto la strada che noi percorriamo credendo sia pulita secondo me è più o meno un obbligo quindi Sara nasce da questo nasce dall'esigenza di andare ad alzare gli occhi da terra e quindi guardando non guardare il crimine ordinario che è frutto di passioni di emozioni di perversioni e guardare invece il contesto generale in cui noi ci muoviamo cioè io ogni giorno dai porti del nord Italia partono delle navi con dei container fanno tutto il giro del Mediterraneo passano per i Balcani arrivano nell'Europa dell'est scaricano i container vengono presi da dei camion e vengono portati all'interno tutto nella assoluta regolarità questi hanno le loro bolle hanno le loro fatture hanno tutto ma nessuno li ferma perché queste navi fanno questo giro questi container vanno all'interno di questo di questi paesi che sono il granaio del mondo cioè che sono i luoghi dove vengono coltivate e poi venduti i cereali della maggior parte delle forniture nel mondo ora questi container che partono dai luoghi industriali dei porti dell'Italia del nord a cui accedono anche dalla Germania peraltro no vanno lì e scaricano vengono poi interrati questi rifiuti questi rifiuti vengono interrati dove viene coltivato il grano che poi mangiamo noi io posso unire i puntini con le mie linee essendo un narratore non un saggista il saggista ha bisogno di documenti di prove il narratore no io non ho bisogno di nessuna prova io posso raccontare tutte le storie che voglio se i rifiuti tossici radioattivi tossici fossero trattati secondo la normativa europea avrebbe questo trattamento un costo tale per cui le aziende che generano questo tipo di rifiuti perderebbero immediatamente la competitività perché diventerebbero perdenti rispetto alle aziende dell'est e dell'estremo oriente che non hanno questo stesso tipo di normativa come fanno queste aziende ad essere competitive a prosperare a sopravvivere parliamo di decine di migliaia di posti di lavoro quindi non è che parliamo di imprenditori cattivi in in smoking che si arricchiscono dietro le quinte anche però parliamo soprattutto di decine di migliaia di posti di lavoro quindi il racconto di questi di questi giri il racconto è plausibile è verosimile o no è verosimile o no nella provincia di Brescia ci sono alcune fabbriche che fanno componentistica meccanica componentistica significa che fanno dei pezzi che poi vengono assemblati altrove questi pezzi questa componentistica è secondo un brevetto molto avanzato italiano italiano che una volta assemblata dà luogo alle mine antiuomo le mine antiuomo vengono assemblate altrove non in Italia quindi figurativamente nessuna fabbrica italiana costruisce le mine antiuomo ma questa componentistica è secondo un brevetto avanzatissimo perché è in materiale plastico sapete che significa questo e i metal detector lo rilevano quindi queste mine antiuomo assemblate in materiale plastico sono introvabili se non da quelli che l'hanno messe quindi quelli che fanno il campo minato hanno in pugno il paese in cui hanno fatto il campo minato perché sanno solo loro dove sono queste mine sanno solo loro come possono toglierle le fabbriche italiane costruiscono le mine antiuomo no ma le fabbriche italiane costruiscono le mine antiuomo se ci pensate io posso raccontare le mie storie posso tirare le linee che uniscono i puntini Sara nasce da questo Sara è il racconto del verosimile il racconto del plausibile che ci può essere al di sotto di queste storie solo questo beh ha fatto spoiler io mi sono tenuto molto sulle le 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 racconteremo esatto ma no non può è perché ha parlato di rifiuti tossici quindi è una delle chi va beh sorvoliamo ecco tutto questo tu parlavi di appunto traffici internazionali queste navi che girano nei balcani eccetera eccetera cioè tu in questa serie di Sara e della sua collega Teresa ti muovi un ambito internazionale cioè mentre Pizzo Falcone intorno a Napoli Ricciardi e Napoli Mina Settembre e la Sicilia Palermo sì sì esatto cioè ambiti molto ristretti qua invece entri in un ambito internazionale cioè scenari che portano che portano riportano quello che era la grande tradizione del romanzo spionistico della Spy Story che ebbe un grandissimo successo negli anni della guerra fredda no cioè la Spy Story c'è 007 ma non solo ecco tu stai facendo rivivere un genere che sembrava in qualche modo tramontato dopo la fine dei blocchi quindi c'è un futuro per il romanzo di spionaggio dei servizi segreti? Secondo me se c'è un romanzo un genere di romanzi che ha un futuro è questo e ce l'ha per due motivi il primo è lo spionaggio interno allora Ustica la strage di Bologna Emanuele Orlandi indico lì non perché ci sia Emanuele Orlandi o qualcuno connesso ma perché ne parlavo con il mio amico Riccardo e lui l'assassino di Bologna Delitti Giovanni Paolo I la morte di Giovanni Paolo I la le stragi del 93 le connessioni tra allora c'è un aspetto fondamentale che è importantissimo da raccontare che è questo il passato nella narrativa noi compiamo un errore non un errore facciamo una cosa abbiamo un artificio che ci facilita la narrazione diamo il passato per scontato la narrativa racconta il presente poi chiaramente tu il presente lo puoi anche trasportare nel passato remoto nel futuro ma racconti sempre un presente questo presente che tu racconti ha un passato dietro che tu devi per scontato come se fosse immutabile cioè noi partiamo dal presupposto che il passato non cambia perché è già avvenuto falso il passato cambia e come cambia il passato cambia perché cambiano gli elementi di lettura del passato quando tu scopri qualcosa che inerisce il passato il passato cambia dimensioni io faccio sempre un esempio per questo immaginate di avere una persona cara che avete perduto un padre una madre un partner un amico qualcuno voi avete perso qualcuno questa persona è stata molto importante per voi vi ha fatto degli insegnamenti vi ha dato delle delle voi lo ricordate molto di quelle persone di cui sapreste dire esattamente che cosa vi consiglierebbe in certe circostanze della vostra vita mettendo a posto dei libri mettendo a posto dei vestiti cercando altro in una soffitta voi trovate un mazzetto di lettere mazzetto di lettere ricevute chiaramente perché quelle inviate non ci sono da questo mazzetto di lettere voi scoprite che questa persona ha avuto una relazione sentimentale per vent'anni ha avuto un amore e magari da queste lettere voi vedete emergere una persona molto diversa da quella che voi ricordate magari voi ricordate un uomo severo un po' rigido non molto comunicativo invece da queste lettere viene fuori una persona espansiva tenera molto sollecita cioè scoprite proprio un'altra cosa questa cosa vi cambia il presente sì o no vi potete arrabbiare vi potete intenerire vi potete divertire vi potete ma comunque il vostro ricordo cambia colore no? cioè quello che ricordavate di questa persona cambia e quindi cambia anche quello che vi ha dato questo pensiero il passato cambia il passato cambia Marilyn Monroe ogni due anni è morta in un altro modo ogni due anni c'è un libro che dice no si è suicidata no no il medico ha sbagliato le dosi della medicina no è stata la moglie di Robert Kennedy e non voleva che lei rivelasse che aveva una relazione no no è stata la CIA perché lei era decisa a parlare ogni due anni vi posso citare perlomeno 20 teorie sulla morte di Marilyn Monroe cambiano le cose certo che cambiano una cosa è se John Kennedy è stato ucciso da un pazzo altra cosa è che è stato la CIA altra cosa ancora che sono stati servizi segreti russi non so se se mi spiego le nuove ricerche del DNA consentono hanno consentito di trovare l'assassino vero del delitto della dell'olgiata della filo della torre di Alberica filo della torre era stato conservato il lenzuolo con cui è stata soffocata sul lenzuolo sono state trovate le tracce del DNA perché adesso si possono fare le tracce le ricerche del DNA all'epoca no cambia il passato certo che cambia questo è il futuro delle spy story le spy story sono interessanti perché consentono per il per la parte interna del paese di andarsi a cercare il passato che puoi rileggere alla luce di nuovi elementi della narrazione questo è il diciamo il segreto di quello che secondo me è più abbiamo misteri più questa narrazione è fondamentale la morte di Papa Luciani è interessantissima banale se vogliamo ma sarebbe molto interessante da raccontare in chiave narrativa no ma tu pensa soltanto Bruno a quante sono le persone scomparse le persone scomparse sono decine di migliaia all'anno scomparse nel nulla cioè gente che dice ci vediamo stasera esce e non torna mai più e di cui non si trovano più tracce ognuna di queste storie è un racconto e che racconto pensate a quanta gente muore nel Mediterraneo chi sono morte 250 persone morte 400 persone e se in questo naufragio insieme a queste persone c'era qualcuno che sapeva qualcosa che doveva dire a qualcun altro che era partito per raccontare una storia che avrebbe cambiato magari il destino della politica internazionale si può raccontare quindi il territorio come vedete è sterminato cioè uno può raccontare tutto mettici poi la politica internazionale nuova perché la guerra fredda che era il teatro delle spy story di allora la guerra fredda non c'è più ma c'è una nuova guerra fredda anche calda per la verità ma c'è una nuova guerra fredda con tantissimi players internazionali che hanno interessi diversi anche nello stesso organismo la comunità europea ma vogliamo dire che Italia e Germania hanno gli stessi interessi per esempio il tema di energia l'Italia e la Germania in rapporto all'Ucraina e in rapporto ai paesi del Nord Africa che sono i due grandi produttori vicini no? abbiamo la stessa cioè se l'energia arriva dall'Ucraina è un discorso si arriva dai paesi del Nord Africa è un altro che cosa conviene a chi? eppure la comunità europea teoricamente è un unico organismo vedete quanti racconti ci sono possibili all'interno quante belle storie noi possiamo raccontare di differenze di interessi all'interno dello stesso organismo senza arrivare alla moria degli oligarchi gli oligarchi non godono di buona salute muoiono con una certa velocità e nelle maniere più strane nello stomaco di Alexander Piriplichni 44 anni morto nel 2012 a Londra lui esce per andare a fare jogging fa tre passi e stramazza al suolo arresto cardiaco il problema era che tre mesi prima aveva stipulato un'assicurazione sulla vita per 8 milioni di sterline e perché l'aveva stipulata l'assicurazione sulla vita per 8 milioni di sterline perché era andato via d'urgenza dalla Russia dove faceva il banchiere ed era importantissimo e aveva curato una frode di 230 milioni di dollari che i funzionari del Cremlino avevano prudentemente accantonato all'estero in un fondo di investimento siccome a fronte di questa frode c'era stata una moria di funzionari del Cremlino che avevano avuto il contagioso il contagioso morbo di buttarsi dalle finestre proprio tutti ogni tanto cioè non si poteva camminare per strada a mosca che ti cadevano in testa funzionari del Cremlino praticamente questo qua era scappato ha avuto questa cosa è stato la compagnia di assicurazione arresto cardiaco quindi due figli 44 anni in perfetta salute arresto cardiaco che a me fa sempre morire l'arresto cardiaco come causa della morte come se uno potesse morire senza l'arresto cardiaco però diciamo lo prendono e la compagnia di assicurazione che prima di pagare 8 milioni di sterline ci va a cauta chiede una perizia e la chiede a una criminologa famosa questa criminologa famosa trova nello stomaco di Piri Plicini le tracce di Gelsenium melegans il Gelsenium melegans è un fiore giallo che cresce soltanto in Cina Piri Plicini era stato a Parigi la sera prima cresce soltanto in Cina questo fiore giallo ed è il fiore altamente tossico che ha l'effetto della striclina che viene usato dai sicari cinesi e russi per ammazzare gli obiettivi senza che questo derivi perché l'effetto è arresto cardiaco la cosa viene insabbiata perché il il magistrato inglese aveva già archiviato il procedimento per arresto cardiaco quindi l'indagine tossicologica rientrava in quel procedimento e quindi non era ammissibile Piri Plicini porta con sé il segreto di 230 milioni di dollari passati da un posto all'altro storia vera questa è una storia vera rigorosamente vera allora capisci che il territorio della spy story non mi sembra affatto in crisi anzi mi sembra molto prospero se devo essere sincero si fa anche c'è però la concorrenza dei giornali perché questa qui è poi cronaca perché alla fine ogni giorno ogni giorno trovi dei gialli delle cose mostruose senti invece per tornare ai tuoi personaggi ecco sono tanti eccetera eccetera qua sono personaggi sono donne cioè sono personaggi femminili ecco raccontare così intimamente così profondamente dei personaggi femminili visto che tu sei uomo ecco ti è facile o no? allora raccontare le donne è molto semplice perché le donne sono più vaste raccontare gli uomini è banale noi siamo leggibili siamo superficiali gli uomini li disegni con sei pastelli otto va quelli più profondi noi vogliamo una birra vogliamo vedere la partita e vogliamo andare a dormire possibilmente cenare non entro nel merito delle attività che ci vengano richieste eventualmente prima di dormire ma queste non andiamo molto oltre le donne servono 64 pastelli sapete quelle scatole grandi perché le donne hanno tutta una serie di enorme di sfumature di profondità di variazioni che noi non abbiamo quindi per un uomo descrivere una donna è molto più bello è più ampio è facile è interessante è imprevedibile descrivere un pedofilo è difficile descrivere un violentatore è difficile descrivere un assassino è difficile perché là devi andare in territori che tu non hai non ti basta moltiplicare te stesso tu moltiplichi te stesso e puoi descrivere una donna per andare per descrivere un pedofilo devi andare da un'altra parte e siccome lo devi fare se ne devi parlare cioè devi entrare dentro devi capirne le logiche se ne devi parlare quello è complicato ma le donne no le donne anzi io vi dirò più vado avanti nelle serie di Sara di Mina più io tendo a descrivere i personaggi femminili molto più di quelli maschili anche i Ricciardi io sono più propenso a parlare di Enrica di Livia di Rosa di Bianca di Ricciardi di Maione Ricciardi e Maione io li faccio muovere loro si comportano hanno l'azione ma la profondità dei sentimenti e la vastità delle emozioni servono le donne sì e poi tu dicevi Ricciardi ma anche poi comunque ci sono protagonisti magari sono delle vittime sono dei cadavri eccetera eccetera femminili ma che poi diventa cioè si capisce molto che sono i personaggi che a te piace raccontare no? cioè anche se sono personaggi secondari o comunque centrali magari appunto come vittime o cose del genere ecco tu dici azione qui questo a me una cosa questo romanzo si svolge più o meno tra due città cioè Milano e Roma quello che mi ha colpito è che non c'è mai 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 la descrizione di una città cioè tu non non riesci a riconoscere questa città potrebbe essere qualunque cosa non c'è una strada o perlomeno riconoscibile come mai? è fatto apposta cioè io vorrei che nella lettura di Sara si capisse che può succedere dovunque cioè che in ogni posto in ogni luogo in ogni contesto ci può essere qualcuno in ogni metropolitana in ogni questa è una cosa che a me personalmente fa impazzire io penso tutti i delitti risolti sono migliaia quando si dice il delitto perfetto non esiste esiste come? che sono migliaia i delitti che non portano alla scoperta di che è stato a volte sono migliaia anche i cadaveri che non si trovano e quindi i delitti voi ci pensate mai che questa gente cammina per strada cioè tutti questi assassini che sono migliaia che l'hanno fatta franca perché l'hanno fatta franca procedimenti archiviati situazioni di non luogo a procedere assenza di prove e cose sono migliaia quindi noi prendiamo un ascensore con quattro persone e tra queste quattro persone c'è uno che nei suoi ricordi ha una morte per omicidio per sua mano se questa persona canticchia o ha le cuffiette o guarda guarda un giornale in metropolitana e nel suo passato c'è una morte violenta per sua mano pirati della strada che non si sono fermati che non si sono stati mai trovati gente c'è gente che continua tranquillamente a vivere la propria vita tranquillamente non lo so ma continua a vivere la propria vita con questo dentro e noi conviviamo rigorosamente con queste persone cioè è altissima la probabilità che ognuno di noi ne abbia incontrato qualcuno o ne abbia sfiorato abbia incrociato la presenza ci abbia parlato un attimo e ne puoi sapere questo è secondo me qualcosa di straordinariamente interessante è inquietante ed è molto interessante non ci pensiamo mai però è una cosa che può succedere allora raccontarla in questi termini cioè termini assolutamente non identificativi privi di connotazioni specifiche secondo me è interessante ecco senti un altro interessante un altro sentimento che tu esplori in questo romanzo appunto sono due protagonisti femminili sono centrali poi ci sono tanti altri ci sono c'è il vecchio poliziotto ci sono il vecchio ci sono gli archivisti questa figura questa figura leggendale che nella letteratura di spionaggio ha un ruolo essenziale ma non solo anche in quello giallo l'archivista è quello che ha la memoria in questi archivi polverosi totalmente scomparsi ormai con con l'avvento dell'informatia insomma tanti personaggi comunque tu quello che esplori anche è questo sentimento molto forte che dà anche il titolo al romanzo sorelle ecco sono due sorelle non sono sorelle di sangue ma forse sono ancora più sorelle ecco che cos'è questa sorellanza che lega due personaggi femminili molto diversi tra di loro io farò farò nobilmente a meno di citare l'attualità politica che vede le sorelle abbastanza centrali direi nella 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 narrazione degli ultimi tempi quindi eviterò di parlarne allora i i rapporti di amicizia delle donne sono molto diversi da quelli degli uomini hanno una una profondità una una un livello di condivisione che noi nemmeno ci sogniamo due amici non si confidano le cose chiacchierano parlano di argomenti sostanzialmente superficiali stanno bene insieme ma un certo tipo di confidenze due maschi non se le fanno non si parla di 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 un certo tipo di cose non si parla di sentimenti profondi di emozioni di di passioni di perversioni noi parliamo di calcio di lavoro di ragazze ma in termini puramente estetici e quindi quando ci vediamo dopo trent'anni che non ci vediamo bastano cinque minuti di breve riassunto delle puntate precedenti e uno ritorna esattamente come era prima le donne hanno un rapporto di di condivisione che arriva a un livello incredibile cioè Bruno è mio amico ma io in bagno con lui non andrei mai tanto meno mano nella mano le donne arrivano a livelli di profondità si raccontano certe cose e soprattutto vivono delle amicizie simbiotiche cioè quando due donne hanno il momento della loro profonda condivisione sembra che non possano vivere l'una senza l'altra cioè si lasciano e si telefonano dopo due minuti per dirsi che cosa hanno pensato nel frattempo questo non vale solo per gli adolescenti vale anche per le donne questo rende il rapporto molto più fragile cioè le donne rompono litigano due amici maschi raramente litigano cioè non non capita non sei sei tollerante le donne hanno un livello tale di condivisione perché diventano intolleranti e se una delle due dice qualcosa che non va l'altra non gliela perdona si separano si lasciano e rimangono separate per sempre salvo però aver condiviso talmente tanto che una delle due può dirti esattamente cosa pensa l'altra in ogni momento è una cosa affascinante da un punto di vista proprio sociologico quindi raccontare di due donne che hanno condiviso delle cose importantissime tra cui la perdita entrambi hanno perso il loro uomo una in maniera violenta per un conflitto a fuoco perché era un poliziotto l'altra dopo una lunga malattia loro hanno condiviso queste perdite chiaramente la condivisione di una perdita è la cosa che ti unisce più al mondo credo cioè non credo esista niente che ti possa unire più della condivisione di una perdita quando loro si separano perché si perdono di vista sono due persone molto diverse e una delle due scompare solo l'altra può capire che cosa pensava l'altra dove può essere andata a finire che cosa poteva aver fatto per proteggersi se qualcosa ha fatto per proteggersi quindi il romanzo è basato su questo sparisce una e l'altra sa che è sparita perché e la deve trovare e deve correre contro il tempo perché ha limitato il tempo per poterla trovare sorelle è questo sinteticamente senti un'altra cosa che mi ha colpito è che i protagonisti sono tutti diciamo non più giovani o però meno o meno diversamente giovani scherzano cioè scherzano alcuni ironizzano sulla loro non più giovinezza un po' perché sono maldestri un po' perché fanno fatica a muoversi fisicamente un po' perché si fanno dei movimenti la tecnologia l'uso della tecnologia gli viene lo strappo muscolare se si piegano eccetera eccetera le stesse protagoniste cioè Sara comunque è nonna no? ecco perché questa scelta diciamo di una terza età? perché mi serviva il passato a me serviva il passato mi serviva che avessero roba dietro che avessero una 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 storia con cui fare i conti il personaggio nuovo quello che io racconto ex nunc no? cioè da adesso e poi è una cosa che non mi non mi non trovo realistico ognuno di noi porta il suo carico di passato più o meno pesante e il passato è quello che ci cambia il presente è che ci cambia il futuro a me servivano persone col passato perciò mi piace raccontare questo tipo di persone poi esiste un'altra realtà dei fatti che è importantissima che la vita non finisce cioè pensare oggi a una donna di 60 anni significa pensare a una donna che è nel pieno della sua forza nel pieno della sua attività e con un apprezzabile tempo davanti da vivere perché devo pensare a una donna irrealistica che siccome ha 60 anni e nonna re mi imbarca non è così anzi siamo proprio nella parte bella quella della consapevolezza quella in cui una donna sa che vive il presente perché quello ha da vivere e non può pensare nell'ottica trentennale del mutuo lungo cioè a me piace pensare a queste persone che hanno anche un certo una certa aggressività nel nel prendere la vita e devo dirti la verità mi quadra cioè non ho avuto difficoltà a immaginarle queste persone nemmeno a metterle in movimento fra loro ecco tu dicevi prima che sono due donne legate dai lutti entrambi hanno perso il loro amore ecco c'è da parte tua del sadismo perché tu alla fine fai fuori tutti i mariti o le fidanzate eccetera eccetera o è proprio una caratteristica del romanzo poliziesco che comunque tradizionalmente gli eroi protagonisti devono essere soli cioè nel romanzo poliziesco l'amore al lieto fine cioè l'amore che funziona non c'è a parte forse Simenova a parte Megret che era sposato ma poi non so se fosse un amore felice però aveva una moglie tornava a casa però è difficile immaginare e tu comunque sadicamente qua mi ammazzi entrambi i loro amori non racconto della morte allora io penso è una mia idea personale che l'amore sia un flusso l'amore non è una condizione la condizione noi siamo abituati a immaginarlo come uno status no? io sono innamorato quindi sono felice all'amore annettiamo l'idea della felicità in realtà l'amore è come un fiume che all'inizio è un ruscelletto divertente che ti attira ma di cui pensi di poter fare almeno in ogni momento no? ti attrae tra tanti altri panorami questo ruscelletto proprio ti piace poi comincia con le rapide qualche cascatella qualche anza qualche ed è diventa intrigante diventa piacevole da seguire no? perché è una cosa che ti prende vuoi vedere dove va a parare no? e lo segui poi diventa cresce e diventa così grande che ti sembra che non ci sia altro non vedi nemmeno le sponde è una cosa così ampia è così quasi ferma quasi calma che ti sembra di che ti possa riempire che ti riempie la vita perché non vedi altro poi man mano comincia a rallentare e tu lo vedi fermo finché non diventa una palude quando diventa una palude e tu capisci che c'è un cattivo odore ci sono gli insetti è diventato tutt'altro posto quando diventa una palude ed è lì che poi finisce se riesci ad arrivare nel mare ci puoi anche navigare ma se ti fermi alla palude quindi il racconto di un amore è a seconda di dove ti piazzi se ti piazzi all'inizio lo racconti in quel modo se ti piazzi durante le rapide durante le cascate lo racconti in un altro se ti piazzi nel momento in cui è bellissimo grande grande è navigabile è pieno di gente dentro ne racconti un altro ancora se racconti la palude ne racconti ancora un altro e soprattutto l'amore non finisce mai contemporaneamente per uno finisce uno esce l'altro rimane dentro quello che rimane dentro è condannato alla solitudine ma che rimane dentro può essere anche per la morte del partner oppure semplicemente per una condizione di separazione lavorativa cioè può finire per un sacco di motivi quello che rimane dentro mentre l'altro esce vive un personale inferno quindi l'amore è un fiume non è una condizione se tu racconti la condizione è un'ambientazione come un'altra ma se tu ti metti nella parte diversa dell'amore ti puoi scegliere l'ambientazione da raccontare sentimentalmente non so se se mi spiego e quindi diventa può diventare il fiorfiore dei moventi per esempio l'amore eppure è una cosa che ci rende felice però l'amore può diventare il movente perfetto no se uno deve uscire non sa come uscire guardate che siamo pieni vi racconti dei diretti del genere Melania Rea per dirne una è stata uccisa perché il marito non sapeva come dirle che la voleva lasciare e se ci pensate è un'assurdità assoluta no c'è totalmente un'idiozia questa ragazza quella incinta è stata uccisa è stata uccisa perché questo non sapeva come dirle che la voleva lasciare è follia pura no quella è morta diglielo lasciala che può succedere ma è tale la costruzione psicologica è tale la situazione psicologica per cui io preferisco ammazzarla piuttosto che dirle che la voglio lasciare queste sono ovviamente delle estremizzazioni delle perversioni delle assurdità ma sono realistiche ecco una chiave perché poi adesso diciamo che il tempo è quasi Maurizio voleva leggere un racconto ecco un'ultima cosa ecco una delle poi delle chiavi di lettura di questi personaggi è poi per vari motivi comunque la solitudine perché sono tutti prigionieri comunque della solitudine o perché sono rimasti vedovi o perché o perché hanno fatto delle scelte cioè la solitudine è una è una gabbia che incombe sui tuoi personaggi come mai? sì allora io sono convinto che questa sia l'epoca più solitaria della storia dell'umanità siamo figurativamente connessi no? siamo costantemente in rapporti costanti siamo amici tra virgolette ma in realtà sono amici sono amiche tra di loro le rappresentazioni di noi stessi non lui cioè l'immagine che noi vogliamo dare la figura che noi vogliamo dare che è profondamente radicalmente diversa dalla realtà la realtà è di assoluta solitudine il covid secondo me ha estrinsecato al meglio questa situazione cioè ci ha messi di fronte alla realtà dei fatti il posto più atroce del mondo è lo specchio del bagno lo specchio del bagno è il posto peggiore che esiste il tizio nello specchio del bagno sa esattamente tutti i fatti nostri tutti non degli altri specchi perché gli altri specchi della casa noi siamo già pronti per uscire ci riportano la figura che noi mostreremo agli altri fuori quella col sorriso quella col vestito lo specchio del bagno no lo specchio del bagno riflette esattamente come siamo appena svegli quindi sa gli amori le perversioni le passioni sa che cosa diremmo se potessimo farlo a tutti cosa faremmo sa il nostro reale sentimento nei confronti che abbiamo vicino nei confronti dei figli nei confronti dei genitori nei confronti del capo ufficio sa tutto lo specchio del bagno quindi il racconto dello specchio del bagno e delle lesioni che sono interne al tizio nello specchio del bagno è in realtà secondo me la chiave narrativa cioè noi dei personaggi raccontiamo lo specchio del bagno manualmente senti Maurizio allora volevi leggere avevi un dai e poi dopo se c'è qualcuno che vuole fare domande sì a volte mi chiedono da dove prendo le storie in realtà le storie arrivano loro qualche volta arrivano da una piccola notizia sul giornale ed è il caso di questa storia qua prego accomodatevi e scusate se vi dicevo in cucina io lo so che non si fa ma il problema che ho è proprio qui dentro in questa stanza il motivo della mia chiamata è qui mi avete detto il vostro nome io ho buona memoria in effetti credo che sia proprio questa la causa della mia difficoltà la memoria che ho il sovintendente russo è la gente vitale ricordo bene siete stati gentili a venire subito non ci speravo credevo sinceramente che non avreste fatto in tempo era questione di minuti ormai vi guardate attorno lo capisco sembra una cucina come un'altra in tutto e per tutto uguale a quelle che potete trovare in tutti gli appartamenti di questo condominio una casa della piccola borghesia immagino che in una città come questa il vostro lavoro vi porti ad affrontare chissà quali posti chissà quale gente e io ve lo voglio dire prima di tutto il massimo rispetto per quello che fate e per come lo fate e altrimenti nemmeno avervi chiamati mi pare li ho chiamati io sì con quel telefono là lo vedete quello sulla mensola non lo uso mai avevo perfino difficoltà a distinguere i numeri sulla tastiera io non ci vedo più tanto bene ce li ho gli occhiali ma li tengo sulla scrivania non li ho mai portati qua in cuscina non so perché vi guardate attorno e vi chiedete il motivo della mia chiamata urgente eppure vi dico essere proprio qua ma voi non lo vedete un po' di pazienza e vi spiego allora io mi chiamo Francesco sono un pensionato come vedete sono piuttosto anziano insegnavo latino e greco in un liceo mi chiamano lingue morte ma sono vive invece lo sapete raccontano un sacco di storie io sono vedovo e questo è un dato importante senza il quale non si capisce perché vi ho chiamati e vi voglio dire primariamente che la mia telefonata non è una sciocchezza veramente come ho detto alla vostra collega del centralino è una questione di vita o di morte letteralmente insomma come vi dicevo io sono vedovo mia moglie è morta l'anno scorso e in un certo modo è stato un tradimento perché eravamo d'accordo che sarei morto prima io che ho cinque anni più di lei e avevo cinque anni più di lei chiedo scusa non mi sono ancora abituato abbiamo ho due figli il grande sta in America fa l'ingegnere la piccola è architetto e vive in Germania sono bravi ragazzi hanno la loro vita compagni lavoro amici sono venuti per il funerale ma si capiva che andavano di fretta e non mi sono sentito di trattenerli ma che bello educato io non vi ho offerto niente un caffè no eh lo immaginavo non avete tempo è giusto e temo di non essere nemmeno bravo a fare il caffè lo faceva mia moglie Elvira un bel nome eh sapete quante volte sapeste quante volte lo pronuncio quel nome nel silenzio Elvira i figli mi telefonano qualche volta non spesso per la verità adesso ho un mese che non li sento il telefono quando suona è sempre per comunicazioni commerciali per lo più sono stranieri ragazzi che lavorano anche loro io cerco di essere gentile poi mi fa piacere sono sempre voci che interrompono il silenzio come me quando parlo con mia moglie questo questo era il suo regno sapete stava sempre qua dentro si affacciava a quella finestra io ancora la vedo era bellissima non era invecchiata di un giorno per me avevamo fatto un patto sapete si eh ve l'ho detto però non riuscite a mantenerlo quel patto è stata l'unica bugia che mi ha detto in 60 anni di vita insieme eppure me l'aveva promesso volete sapere perché vi ho chiamati eh qual è la questione di vita o di morte beh la questione è quella finestra la vedete quella alle vostre spalle ci sono certi giorni che mi sembra di potercela fare quando c'è l'aria limpida e posso andare a passeggio quando scambio perfino due chiacchiere con la salumiera una ragazza gentile che mi racconta dei figli o quando finco di non sapere in quale strada mi trovo e allora chiedo l'indirizzo a qualche passante che mi dà un po' di confidenza e un po' di volte sono perfino tornato alla mia vecchia scuola ma dopo tanti anni non c'è più nessuno che si ricorda di me e mi mortifica un po' spiegare tutto ogni volta chiedere di colleghi scoprire che sono morti o peggio ancora che nessuno si ricorda il loro nome è una sensazione orribile mi sembra di non essere mai esistito e quella sensazione in questi ultimi anni si è andata allargando come una di quelle macchie di petrolio nel mare che si vedono in telegiornale un'onda nera oleosa maleodorante che invade tutta l'esistenza voi giovani vi collegate siete connessi l'ho visto alla televisione ma io sono vecchio non lo so fare e poi confidenza la mia pensione assento mi basta per sopravvivere se non avessimo comprato questa casa con il Vila quando eravamo giovani qua non c'era niente io sarei senz'altro finito in un istituto perché io e i miei figli ho sempre dato ma non saprei chiedere niente non che me l'abbiano proposto ma hanno la loro vita compagni lavoro amici ve l'ho detto questi anni certe volte ho pensato me la prenderei questa malattia magari è il destino che ne so magari il Vila vuole che ci riuniamo lei non ci credeva non ci credo nemmeno io ma chi lo può dire però non l'ho presa la malattia l'ha presa il portiere che era una brava persona tanto più giovane di me non l'hanno sostituito non vedevano l'ora di risparmiare sul condominio qualcuno avrà pure tirato un sospiro di sollievo la gente è cattiva certe volte ci sono certi giorni che ce la faccio ve l'ho detto ma sono sempre meno la maggior parte delle volte cerco di non entrare qua dove la sento più forte alla mancanza di Elvira perché io lo conosco il pericolo sono vecchio ma non sono stupido e mi dovete dare atto che non vi ho mai chiamati potete controllare immagino che teniate un registro delle telefonate io non ho mai chiamato nessuno per chiedere aiuto ho sempre pensato che ce la dovevo fare da solo arrestare o ad andarmene perché io mi chiedo e se poi una su un milione davvero funziona come dicono i preti e ci si riunisce da qualche parte e io se faccio questa cosa la cosa della finestra intendo mi perdo la possibilità di stare di nuovo con Elvira lo so non ci credo nemmeno io ma la mia età si deve tenere conto di tutte le possibilità vi pare io per questo stamattina vi ho chiamati sono rimasto davanti alla finestra mi attira è come una sirena e io non sono Ulisse non ho la forza di legarmi all'albero della nave ve la ricordate l'Odissea così fa la finestra mi fa pensare ecco un attimo e la finiamo la finiamo col silenzio la finiamo con la solitudine la finiamo con i pensieri dolorosi la finiamo con i soldi che non bastano a pagare le bollette la finiamo con le ossa che fanno male la finiamo con la voglia di non alzarsi dal letto la mattina la finiamo col telefono che non squilla con i figli che non si fanno vivi la finiamo con i ricordi che ti sotterrano la finiamo con la felicità che non sapevi di avere e che invece avevi ma che non ti sei goduto per guardare avanti avanti e avanti avanti non c'era niente c'era la finestra il tempo che non passa allora stamattina ho pensato lo faccio e poi ho pensato ma forse mi perdo il Vila ma il silenzio era troppo una macchia di petrolio in cui stavo affogando e l'ultimo pensiero siete stati voi voi salvate la vita alle persone no voi fermate le mani dei delinquenti dei rapinatori dei camorristi voi siete il bene e il silenzio il maledetto silenzio e il male che mi spinge alla finestra e le ultime forze le usate per chiamarvi e credetemi è come se vi avesse chiamato il testimone di un delitto che sta per avvenire come se vi avesse chiamato il parente di qualcuno che sta per ammazzare qualcun altro una chiamata urgente una questione di vita o di morte io vi ho chiamati per non morire e per chiedervi una cosa strana che sembra assurda lo so ma se mi farete questo favore voi avrete salvato la vita di qualcuno proprio come se aveste fermato la mano di un assassino io vi faccio perdere un momento per ricordare come qualcuno che si interessa a te quello che vi chiedo è questo solo questo vi potete abbracciare per favore grazie grazie tanto grazie a Bruno Ventacoli grazie a tutti